Il futuro delle aree interne è fortemente a rischio? Sì, purtroppo è sempre stato negli ultimi anni e in questa particolare fase storica stanno diventando incerti, incerti una serie di elementi che dovevamo avere per sicuri, oggi sono incerti purtroppo. Manifica un lavoro che è stato portato in atto nel corso di questi anni? Speriamo di no, dobbiamo tutti come cittadini impegnarci e scendere in campo per cercare di fare in modo che tutto quello che abbiamo immaginato negli anni scorsi si realizzi.